Qualsiasi allucinosse! Vengono signori! Funghetti allucinogeni! Marihuana! Andiamo! E mio figlio di 18 anni vuole andare ad Amsterdam, ad Amsterdam! Chissà cosa gli interessa, chissà cosa cercherà, ad Amsterdam! Sono sicuro che lui vuol visitare musei, le cattedrali giganti, le mostre importanti! Sono certa, lo so, vedrà anche i quadri di Van Gogh! Mamma, dammi cento lire, voglio andare ad Amsterdam, ad Amsterdam! Voglio andarci in motorino con Marino Capotram, ad Amsterdam! Ma tieni amore, un milione, vedrai lo spenderai bene! Dentro musei, nelle mostre, nelle pinacoteche, costa molto, lo so, vedere i quadri di Van Gogh! Amsterdam, tutti i ragazzi vanno ad Amsterdam! Amsterdam, tutti i ragazzi vanno ad Amsterdam! Amsterdam, ed un motivo forse ci sarà, ma questo mamma ora non lo sa! Mamma, sono ritornato, sono stato ad Amsterdam, ad Amsterdam! Sono cotto come un ferro, sono aperto come mai! Ho visto farfalle bianche, puttane mai stanche, biciclette volanti e fiori parlanti! Io ci devo tornare, anche se non c'è il mare, io ci devo tornare, io ci devo tornare!